La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei legali di Vittorio Cecchigori contro la revoca dell'indulto decisa il 16 ottobre dalla Corte di Appello di Roma. In conseguenza a questo pronunciamento la condanna complessiva da scontare per il produttore cinematografico è di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni, essendo stato eliminato lo sconto di pena di 3 anni. Cecchigori ha ottenuto di scontare la pena ai domiciliari nella sua casa romana e ai parioli per via dell'età avanzata, a quasi 80 anni, e delle condizioni di salute che, unite al rischio del contagio da Covid negli istituti penitenziari, hanno spinto i giudici di sorveglianza a considerarlo troppo a rischio per affrontare il carcere. Il 27 febbraio del 2020 la Cassazione aveva reso definitiva per l'imprenditore fiorentino, che da decenni vive a Roma, la condanna per il fallimento della SAF in cinematografica come deciso nell'ottobre del 2018 dalla Corte di Appello per un crack da 24 milioni di euro. La precedente condanna per il dissesto del club Viola aveva fatto scattare il cumulo di pena con SAF in e l'indulto ottenuto per la vicenda della Fiorentina era stato revocato per la commissione di altri reati finanziari.